Scusa Boveria abbia ottenuto quel minimo. 56,98 ha fatto quest'anno. Pensa te, è stato 57. Mentre per Rio, parliamo di Marzia Caravelli, 56,20 come riferimento. Che ha già fatto? No, 56,20 no. Sì, hai ragione, 55,69. Folorunzo parte piuttosto forte. Allora, Jennifer Rocco, l'intrega, che ha presentato l'Italia anche in Coppa Europa qualche anno fa a Gateshead. Poi Joey Spinello, Ilario Vitale, a Iomide Folorunzo, Marzia Caravelli per la mia battaglia. Parte fortissima a Iomide Folorunzo, che è a sua volta alla ricerca di quel 56,20. Il 57 e... L'ha già fatto quello per i... Eh, la Caravelli raggiunta, nel momento in cui è stata raggiunta i 200, la Caravelli ha cercato di reagire. Ma i primi 200 molto tranquilla. Ehi, ancora lo stesso ostacolo del gol da Gala. No, ferma, Marzia, rischi di essere investita. Iomide Folorunzo va al titolo italiano, insomma, Marzia Caravelli, bisogna appuntellarla. Questa pratica dei 400 stacoli. Attenzione, da Iomide Folorunzo, attenzione, da Iomide Folorunzo, attenzione, da Iomide Folorunzo! No, ma, 55, 53, fantastica! Iomide Folorunzo, fantastica! 55, 53. Allora è accaduto anche questo, che la ragazza di Fidenza, origini nigeriane, parmigiana, cresciuta nel Cosparma, che questo tempo aveva provato ad ottenerlo, non magari questo, ma quello per andare ai giochi olimpici, a Bressanone, i campionati di categoria Under-23, lì l'aveva sbagliato ed era arrabbiata come non mai, ha tenuto il carificio.